Mentre non accenna diminuire la tensione fra gli agricoltori europei che da giorni invadono a migliaia le strade delle capitali con i loro trattori per protestare contro costi di produzione ormai insostenibili e prodotti a prezzi stracciati in arrivo dall'Ucraina e anche in Italia si intravedono forse proteste, i vertici agricoli della Lombardia volano a Bruxelles per provare a invertire la rotta del settore primario che di questo passo presto potrebbe non essere più in grado di fare il suo lavoro ovvero dare da mangiare alle persone così la pensa perlomeno l'assessore regionale all'agricoltura Alessandro Beduschi che ha parlato di un ambientalismo ideologizzato che penalizza il comparto fra le proposte contenute nel dossier tecnico che sarà sottoposto all'Unione Europea prossimamente ci sono per esempio la revisione delle norme che regola l'uso dei concimi come i nitrati ma anche la tutela delle superfici coltivate. Innanzitutto una missione importante alla fine di una programmazione europea che ha visto scontentare il mondo del settore primario in modo molto evidente, ne evidenza le polemiche di questi giorni e soprattutto le giuste manifestazioni degli agricoltori che vanno a rimarcare ciò che porteremo a Bruxelles, una serie di note tecniche importanti per rivedere un po' il concetto che l'Unione Europea ha fatto privilegiare in questi anni, vale dire l'ideologia rispetto alla concretezza e alla praticità delle cose. La parte di ideologia ambientale ha prevalso sulla parte produttiva di sostenibilità vera e di produzione e in questo l'agricoltura ne è stata fortemente penalizzata. Vogliamo che si riaprano dei dossier, vogliamo che il settore sia ascoltato per non permettere che la polemica divampi in tutta Europa, fortunatamente in Italia no, in Lombardia neppure, o molto marginalmente, proprio perché il settore è ascoltato, il settore è fondamentale per la tenuta e soprattutto per procurare cibo all'umanità e quindi deve essere preso con grande considerazione e serietà. Intanto da Roma la deputata Antonella Forattini fa sapere che grazie all'emendamento presentato dal PD la nuova tassa per i produttori di energia rinnovabile con impianti superiori a 20 chilovat è stata stralciata dal decreto legge energia. Il governo non ha accolto l'emendamento ma ha eliminato la norma, ha spiegato Forattini che avrebbe avuto un impatto molto negativo su molte imprese agricole che negli ultimi anni hanno realizzato impianti per la produzione di energie rinnovabili. Grazie.